Ciao, bentornato e bentrovato nel canale Metodo MCA, Mente, Cuore, Anima, oppure Mindset, Consapevolezza, Abondanza. Se non mi conosci, io mi chiamo Ursula e sono ideatrice del Metodo MCA, dove impariamo come creare abbondanza nella nostra vita in modo consapevole. In modo consapevole, ossia in accordo con la nostra consapevolezza, la nostra anima-cuore. E oggi parleremo della differenza tra Mindset, che significa il modo di pensare, e le frequenze alte, le vibrazioni alte. E parleremo anche di una trappola della spiritualità, e mi sento abbastanza esperta nell'argomento, perché per prima ero vittima di questa trappola per diversi anni. Il Mindset è il nostro modo di pensare, quindi sono i nostri schemi di pensiero quelli che in automatico passano nella nostra mente. Il Mindset può essere potenziante o depotenziante, quindi può essere congruo con i nostri obiettivi, oppure può remarci contro. Per esempio, parliamo con gli esempi che è più facile. Se io credo a livello profondo, quindi a livello subconscio, se io credo che sono una persona di successo, e per me è facile imparare le cose nuove, questo sicuramente giocherà al mio vantaggio per intraprendere le attività nuove, per andare fuori della mia zona di comfort, per crescere, per raggiungere successo nella mia vita. Se io invece credo che la vita è ingiusta con me, che tutto mi rema contro, che tutti vanno contro di me, che la vita è lotta, fatica e sudore, questi sono gli schemi di pensiero che renderanno la mia vita difficile, faticosa e per qualsiasi cosa dovrò faticare tre volte tanto rispetto agli altri. Gli schemi di pensiero sono costruiti da una serie di credenze che passano nella profondità della nostra mente e delle quali, nella maggior parte dei casi, non ce ne rendiamo conto, perché non siamo consapevoli, perché questi schemi di pensiero sono talmente veloci, talmente automatici, e stiamo talmente credendo in quello che pensiamo che non mettiamo neanche in dubbio. Quando qualcuno ti dice che è difficile guadagnare facilmente 5.000 euro al mese e tu hai un lavoro come impiegato e in effetti la tua paga è sotto 2.000, dici è certo, è scontato, ma non è una realtà assoluta, è una realtà che corrisponde al tuo sistema di credenze. Per raggiungere qualsiasi obiettivo noi dobbiamo uscire da questo sistema di credenze e creare un nuovo sistema, un sistema di credenze che io chiamo il mindset, che supporta i nostri nuovi obiettivi. Quindi se io adesso guadagno 2.000 euro e voglio arrivare a guadagnare 5.000, io devo cambiare una serie di credenze per poter facilmente guadagnare 5.000 euro. La difficoltà, no, non voglio chiamarla difficoltà, la sfida è che quando io sono al livello di pensiero dove guadagno 2.000 euro, io non so quello che devo pensare per guadagnare 5.000 euro. È per questo che è così difficile raggiungere i propri obiettivi, è per questo che ci sono poche persone che riescono a farlo in maniera facile, snella e continua, perché io oggi non so quello che devo sapere per arrivare là dove voglio arrivare. E questo è il mindset. Adesso passiamo al discorso delle vibrazioni, delle frequenze, della consapevolezza e della spiritualità. Ogni uno di noi è un grande campo elettromagnetico, quindi energia in movimento, che vibra ad una determinata frequenza. In questi tempi sempre di più si parla delle frequenze basse, frequenze elevate. La nostra frequenza è come la nostra impronta digitale ed è costituita da un insieme di nostri pensieri, di nostri schemi di pensare, di nostro modo di pensare, quindi le nostre emozioni, le nostre memorie cellulari. Tutto questo costituisce la nostra frequenza. Adesso, per raggiungere i nostri obiettivi, noi dobbiamo trovare un equilibrio tra mindset e le frequenze. Non è la stessa cosa, perché lavorare sulle frequenze è trovare la pace interiore, lavorare sulle vibrazioni, sulla consapevolezza è uscire dagli schemi della mente e trovare la pace interiore, aprire il cuore, essere nel campo del cuore e provare emozioni di ottava alta, di provare le emozioni elevate. Più elevate sono, più sono in... Più elevate sono, più trovo pace e tranquillità nella vita. Ma trovare pace e tranquillità nella vita non basta, non basta. Perché io posso essere anche molto spirituale, posso lavorare sulle mie frequenze, posso stare in meditazione tutto il giorno, posso ascoltare o recitare i mantra, scrivere le affermazioni e stare veramente, arrivare a stare veramente in pace con me stessa, in tranquillità, nella felicità. Ma noi dobbiamo ricordare che la vera crescita e la vera evoluzione, anche quella spirituale, qua in terra, avviene attraverso la realizzazione nella materia. Quindi se io sto a casa e medito tutto il giorno e sto nel benessere, ma non realizzo i miei obiettivi, forse mi sto ingannando. Infatti ogni tanto mi capitano delle persone che Ursula, mi fai una meditazione personalizzata, Ursula voglio prendere questo, questo, quell'altro, e con la meditazione personalizzata vogliono risolvere le difficoltà nelle loro vite. La meditazione, il mantra, i video su YouTube, quelli che vi... anche con subliminali, con autoipnosi, con ipnosi, tutto quello che ad oggi è a portata di tutti serve per tranquillizzarci. Tutti questi sistemi servono, sono d'aiuto per la nostra crescita, ci permettono di stare tranquilli, di calmare la mente, di uscire anche dalla paura perché è la prima cosa che ci blocca, ma per realizzare davvero nella nostra vita ciò che desideriamo non basta. Non basta stare nell'amore, nella pace, nella tranquillità per 24 ore su 24. Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, obiettivi concreti, noi dobbiamo cambiare i nostri schemi di pensiero. Se io oggi guadagno duemila euro al mese e faccio meditazioni e faccio i mantra e recito questo, questo, quell'altro e scrivo le affermazioni, ma non cambio il mio modo di pensare che riguarda il mio lavoro o il lavoro in generale, oppure la situazione economica in generale, io non vado da nessuna parte. Se non cambio gli schemi di pensiero e non agisco in accordo con nuovi schemi di pensiero. E questa è la trappola della spiritualità. Dove ero vittima, dove sono cascata io, e dove ero vittima per anni. Meditavo, recitavo, facevo di tutto, anche delle tecniche energetiche, di tutto, ma aspettavo che qualcosa cambiasse da fuori. Non basta. Bisogna cambiare gli schemi di pensiero in modo che sono congrui con il nostro obiettivo, quindi sono allineati con il nostro obiettivo, quindi supportano il nostro successo, la nostra realizzazione. Dopodiché bisogna intraprendere le azioni concrete, le azioni che devono essere diverse da quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi diciamo che il mio consiglio, come lavorare su se stessi, ed è quello che faccio io. Quando sono nelle frequenze basse, sì, perché queste ciclicamente arrivano ogni volta che avete un desiderio nuovo, e quando sono nelle frequenze basse, allora là cerco di tranquillizzarmi, con attivazione MCA, con le meditazioni, con apertura del cuore, cerco di tranquillizzarmi, trasmutare, cambiare ciò che è dentro di me, di me a livello delle frequenze. Poi strutturo il nuovo mindset, quindi installo le credenze potenzianti che mi servono per il mio nuovo obiettivo, e sulla base delle credenze potenzianti mi muovo in maniera diversa rispetto a quello che ho fatto finora. Non c'è niente da fare. Se vuoi ottenere risultati diversi, devi fare le azioni diverse. E là serve il coraggio, perché facendo le cose nuove, tu non sai che effetti raccoglierai tra un mese o un anno. Questo è il coraggio, fare le cose nuove, seguendo la propria intuizione, con la fiducia che ci riesci, ma ci puoi riuscire solo quando prima hai cambiato il tuo mindset. Scrivimi nei commenti se sono stata chiara, perché è un discorso molto delicato. Comprendere la differenza tra mindset, tra le frequenze, le vibrazioni, e come apportare tutto questo nella realizzazione dei propri obiettivi. Scrivimi anche nei commenti che cosa ti piacerebbe sapere, quali argomenti ti piacerebbe vedere il video su questo canale. Ti ricordo di iscriverti anche nel mio gruppo privato Facebook che si chiama Metodo MCA. Seguimi anche sul nuovo account Instagram, mi trovi come metodo.mca. Ti ringrazio per l'attenzione, condividi questo video con i tuoi amici e seguimi per altri contenuti.